Buongiorno, sono Emilia Giulia Di Fava, questa mattina parleremo in questa sede della nuova riforma sui servizi pubblici locali e sulla riforma delle società a partecipazione pubblica. Una è una riforma solo annunciata, l'altra è già stata attuata, quindi in particolare il focus di questa mattina sarà sui nuovi modelli di società in house e delle nuove modelli di società a partecipazione pubblica mista, quindi con il parternariato pubblico privato. Questo è il tema della giornata, saremo disponibili per tutte le domande che ci saranno su questo tema e cercheremo di affrontarlo utilizzando al meglio anche i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione.